Focus e caratteristiche distintive di una delle altcoin più promettenti sulla criptosfera. Stiamo parlando di Waves, che possiamo considerarla la risposta della criptosfera a Kickstarter, ossia la famosa piattaforma di crowdfunding nel mondo convenzionale e ordinario. Waves consente pertanto di creare il proprio token legato ad una determinata attività imprenditoriale, al lancio di una start-up che necessita del token e così via discorrendo, e gestire il tutto con grande semplicità dal punto di vista del know-how, grazie al potenziale della piattaforma. Consente ovviamente di avere il classico universal wallet per detenere la propria dotazione di token, unitamente anche a quelli che vengono creati a titolo individuale e personale. All'interno un proprio decentralized exchange che consente di vendere e acquistare i token, non solo quelli conosciuti, ma anche quelli generati dal proprio estero imprenditoriale, su una piattaforma di facile accesso e soprattutto intuitiva, quindi senza necessità di ricorrere a grandi lungaggini informatiche per potersi adentrare nel mondo delle alte coin. La capitalizzazione ormai è di oltre 200 milioni di dollari, il ranking di Waves è costantemente in ascesa, il prezzo del token sul quale si basa tutta l'infrastruttura della piattaforma viaggia in queste ultime settimane tra i 2 e i 3 dollari, considerando il fatto che rappresenta una delle piattaforme più evolute e più facilmente intuibili per il proprio utilizzo, è previsto un'escalation nei prossimi anni del token in merito alla sua fruibilità. Trovate come sempre il codice di negoziazione del token unitamente al link alla casa che sviluppa la piattaforma nella nota informativa della clip in modo tale da comprendere ulteriormente quelle che sono altre potenzialità di Waves che non sono state menzionate all'interno di questa breve recensione.